Dovendo far fronte ad esigenze di organico per il forfè di Nicole Ferrarini causa infortunio, l'Albaverde ha tesserato la schiacciatrice Martina Escher dalla cosi del Zafferana. La Escher viene da una stagione di stop, le cui tossine sono state già smaltite nella prima parte del campionato in corso. Ha una lunghissima carriera pallavolistica alle spalle, partita nel lontano 2003 in C con la puntese, per poi inanellare tutta una serie di esperienze in B1. Tra un campionato e l'altro, per dovere di cronaca, sono da citare due belle esperienze nel mondo dello spettacolo, di cui parla con gran pudore considerandone solo una parentesi della sua vita. È stata infatti tra le 60 finaliste dell'edizione di Miss Italia 2010 ed è stata protagonista più recentemente di un'esperienza televisiva nel programma di Maria De Filippi Uomini e Donne. Diciamo che mi ha portato qui sicuramente la stima che avevo nei confronti della società perché già comunque seguivo da lontano, quindi quando ho avuto l'opportunità di entrare a far parte di questa squadra non ho perso tempo. Ambizioni per il futuro? Allora io non parlo mai, nel senso che sono sempre alte, nel senso che quando inizio qualcosa è perché ne deve valere la pena, altrimenti neanche inizio.